Per lontare contro i cambiamenti climatici possiamo partire dai nostri comportamenti, dai nostri stili di vita perché il surriscaldamento del pianeta, quindi i deserti, l'utilità carbonica nell'aria, l'effetto serra e quindi lo scioglimento degli acciari, eccetera, è dovuto alla desertificazione cioè abbiamo bisogno degli alberi e allora una delle cause di deserto nella terra, come ci ha dimostrato la foresta mazzonica che hanno bruciato è dovuta ai pascoli, agli allevamenti animali e quindi al nostro consumo di carne, di latticini, eccetera ricordiamocelo, noi con il nostro comportamento possiamo da stupido fermare il grande amico della temperatura che è l'energia e tutto quello che può dire e nei momenti in cui c'è l'acqua, la terra, i cibi, i cibi staranno, la agricoltura, la soia e il maestro è quello di dare da mangiare agli animali, a miliardi di animali che sono schiavi sono trattati fino alla morte, sono trattati fino alla morte questo è il modello capitalistico più brutale è il modello capitalistico che vende schiavi non solo gli animali ma ovviamente i gruppi lavoratori, abbattire anche dagli studenti c'era Lorenzo che mi ha salutata c'era Lorenzo? eh sì mi ha visto mi ha detto che sei sempre assieme a quella roccia è bella, è bella lunga è quella che ti frega il lavoro non è male, stavamo solo, chiesa di meno le più belle della manifestazione è bella, è bella, è bella, è bella è bella, è bella, è bella, è bella ma già molto bacana grazie fai sempre il provocatore è bella non vado più non si, si è servito ma vado una volta ogni anno si è lasciato il gruppo, è sempre il gruppo per fare il canto io mi ritigavo con Alessio Scarpa normale perché lui è stato capitano di una nave quindi ci siamo i vicini di casa ah sì? quindi ti lo saluto a Alessio Angelini vedrai cosa ti dice ok, felicità grazie 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 grazie